E allora buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti, mi raccomando iscrivetevi a questo canale se non siete già iscretti, condividetelo con tutti i tifosi della Fiorentina che conoscete, seguitemi sui social, seguite Viola Press, seguite Una vita sfumata Viola, guardate i video già fatti, quello di stamattina e gli altri giorni, mi raccomando, e domani ovviamente faremo il video del giorno dopo Udinese-Fiorentina. Allora, una vittoria importante perché è un campo ostico, è un campo difficile, sono tre punti tanto importanti quanto preventivati, signori, se mi seguite con attenzione, però vittoria un po' sofferta. Quest'oggi della Fiorentina non mi è piaciuto tutto. Diciamo che sicuramente mi aspettavo una partita fisica, una partita complessa, una partita tirata sicuramente, anche interessante da certi punti di vista, però devo dirlo in onesta verità, me l'aspettavo un po' diversa. Cioè mi aspettavo una Fiorentina che giocasse magari come si era visto, non dico tenere tutta la qualità vista nel primo tempo contro l'Inter perché poi è possibile, nel secondo poi le paghi e dopo ci veniamo. Però magari una Fiorentina simile a quella che avevamo visto col Torino o con l'Atalanta, cioè una squadra anche che facesse delle belle, come si può dire, una bella organizzazione di gioco, che controllasse la partita, che facesse gioco. Invece abbiamo un po' sofferto, complici anche quest'oggi dei cambi di italiano che non mi sono molto piaciuti, perché sono stati i cambi, quelli del secondo tempo parlo, abbastanza difensivi. E soprattutto non sei andato a togliere della gente, dei giocatori che per me andavano invece tolti, prima, oppure andavano tolti del tutto e sono stati lasciati in campo. Hai trovato di fronte un Udinese che nonostante abbia giocato due giorni in più di te, comunque era in palla, una squadra anche fisicamente c'era, sembravamo quasi più stanchi noi, non lo so se fosse una stanchezza della Fiorentina. Per certi versi, attenzione, per certi versi è anche una cosa positiva questa di cui abbiamo parlato in settimana, quella dell'evitare di fare 45 minuti a 100 all'ora e poi perdere nel secondo tempo, come si era visto con l'Inter. Si è visto molto per me, specialmente nelle indicazioni di italiano, una Fiorentina che ha cercato di dosare le forze. La si è vista molto, però in certi tratti questo è stato un po' rischioso, è stato un po' esasperato, è stato un po' esagerato. Di solito l'Udinese non è una squadra che fa queste partite, di solito l'Udinese è una squadra che ti aspetta e riparte, invece durante il secondo tempo sei stato molto schiacciato. Poi è anche vero che si gioca spesso, la squadra sarà anche un po' comprensibilmente stanca. Il risultato, vi ripeto, va bene, perché oggi giocavi sul campo di una squadra che aveva, vabbè, giocato contro Napoli e Roma, però aveva perso, quindi oggi magari voleva fare punti. Però ecco, mi aspettavo una vittoria un po' più agevole, non il risultato, ma più che altro nella prestazione, nel gioco e via dicendo. Sono onesto, il rigore da regolamento c'è, secondo me, il rigore che hanno dato per la Fiorentina, sono però onestamente rigori che non fischerei mai. Io il gol della settimana scorsa, sono onesto, quello che ha fatto l'azione di Nico Gonzalez, da cui poi è nato il gol di Sottil, per me quello è un gol regolare. Quest'oggi, sto rigore qui, non so se l'avrei fischiato. In ogni caso, meglio così, diciamo, per la Fiorentina. E bene per il risultato, perché sono tre punti importanti. La prestazione va un attimo registrata. Va un attimo registrata, secondo me, perché, e soprattutto vanno registrati i cambi. Io oggi, per esempio, avrei tolto, avrei tolto Caleon, che ha fatto una, per voi, ditemi la partita di Caleon oggi. Non so perché dobbiamo avere sta tassa di Caleon, che deve giocare sempre tutte le partite ogni volta, deve sempre essere messo titolare fisso, ha perso un sacco di palloni. In attacco è stato spesso irrisolutivo, ha fatto una partita che bisognava toglierlo dopo 45 minuti, e ha fatto tutta la gara. Questa cosa, per esempio, è una di quelle che a livello di cambi non mi è piaciuta. A livello di cambi non mi è piaciuta. E per il resto, poi, veniamo anche alle pagelle. Ho visto un Dragoschi, a cui oggi bisogna dare un voto positivo, perché Dragoschi oggi è stato molto importante. Ha fatto una parata su Deulofeo, su un tiro molto bello, che non era facile da fare, un tiro forte, arquato, e ti ha aiutato molto quella parata lì. Vlaovic ha fatto una partita, onestamente, credo che in telecronaca l'abbiano un po' incensato troppo, però è vero che ha fatto una partita di lotta, di governo, ha segnato il rigore, ma soprattutto ha fatto un lavoro fisico, si è portato via uomini in modo molto forte. Spesso è stato anche un po' soletto, un po' soletto davanti. Non sono d'accordo con un po' l'appetazione che hanno dato a Saponara, perché a me invece, ecco, Saponara ha peccato un po' di lucidità negli ultimi metri. Però mi è piaciuto molto il lavoro che ha fatto, aiutando la squadra nei contrasti, tornando indietro, comunque ha una fisicità importante di un certo tipo che non mi dispiace. Ho visto un Torreira un po' timido, nel senso che sì, nella fase di non possesso bene, però è un po' occluso quando ha la palla, quando deve... Era anche abbastanza marcato oggi perché aveva una specie di gabbia attorno. Però l'ho visto un po' chiuso. Mi è piaciuto molto Milenkovic. Martinez Quarta ha fatto una partita alla Martinez Quarta, cioè cose molto belle, anticipi, garra, coraggio e via dicendo, però a volte qualche irruenza eccessiva, qualche intervento, anche magari vita... Però in generale mi è piaciuto, mi è piaciuto molto. E per il resto l'Udinese ho visto comunque una squadra che per certi versi mi ha anche sorpreso, nel senso che mi immaginavo un Udinese un po' più di messa. Mi immaginavo un Udinese che faceva il suo solito gioco, che non aveva un approccio molto offensivo, che cercava di far male in contropiede, invece si è visto un Udinese che addirittura è anche passata al 4-2-3-1, che io penso siano 20 anni che non si vede un Udinese giocare a 4 dietro e con un modulo così anche spregiudicato e tentando di andare a recuperare la partita. Comunque vado con le pagelle, voi iscrivetevi, lasciatemi i vostri commenti sulla partita che domani rispondo anche a quelle che sono state le vostre visioni. Allora, andiamo con i voti. Dragoschi voto, gli voglio dare un bel 6,5 di incoraggiamento, qualcosa da migliorare, qualcosa ancora da pulire, ma oggi voglio premiarlo, gli do 6,5. Odrio Zola, ecco, un altro che sono un po' combattuto, perché se valuto l'impegno, valuto la corsa, i polmoni, il suo essere un po' folletto, sicuramente bene. Una volta però è un po' leggero, non capisco se è carne o pesce, in fase offensiva non mi è piaciuto molto, non ha punto molto, quindi io gli do un 6, che è un 6 più che altro per l'impegno, un 6 per i polmoni, per la corsa, però mi immaginavo un giocatore diverso, vorrei vedere a volte un Odrio Zola capace di saltare un po' di più l'uomo, di essere un po' più pericoloso davanti. Milenkovic gli do 6,5, mi è piaciuto molto, Martinez Quarta gli do 6 più, ok? Ha fatto bene, però ha preso anche dei falli, che è meglio limare, diciamo che si è vista di più l'esperienza di Milenkovic rispetto a Martinez Quarta, che ha un po' più qualità, ma magari quel pizzico di esperienza in meno. Biraghi, fin tanto che è stato in campo, mi è piaciuto, soprattutto dal punto di vista difensivo, comunque gli do un 6 oggi. Buonaventura, allora ha preso il rigore, per carità quello il merito, poi però un po' sparito dal campo. Gli do un 6 più per quel rigore preso. Torera gli do 6, Duncan, ma Duncan è un po' il solito Duncan che vediamo in queste partite, tanti polmoni, corsa, recuperi, ma anche, a parte quel lancio bello che ha fatto per Vlaovic, però deve un po' migliorare nel tocco palla, passaggi, così gli do comunque 6 più. Kaleon 5,5, veramente non... Oggi non mi è piaciuto per niente, Vlaovic 6,5, Saponara 6,5, Malè mi è piaciuto 6,5, Terzic voto 6, Amrabat mi è piaciuto, comunque ha dato molta mano a centrocampo a stoppare anche certe iniziative, gli do 6, Nassasic 6, Igor ha fatto un ottimo intervento su Beto, salvando un gol, gli do 6 più per quello. Voti veloci all'Udinese, poi agli allenatori, allora Silvestri voto 6, Becao voto 6 più, Nuitink 6 più, Samir 6, Sopi, ma a me è piaciuto Sopi, non so perché in cronaca l'hanno criticato, era uno dei più attivi, era un folletto a inizio primo tempo, non mi è dispiaciuto, gli do 6 più, Arslan gli do 5,5, soprattutto per quella scenata lì senza senso, Buonaventura non è che l'aveva stoppato apposta, Wallace dal 5 al 6, Pereira 6 meno, Strieger Larsen 6 meno, Beto mi è piaciuto 6, Deulofeu 6 più, Makengo 6, Udoji 6, Molina dal 5 al 6, Pussetto 6, Samarzic 6 meno, voto agli allenatori, allora Gotti, ma gli do comunque 6, perché ho visto un Udinese carina, ho visto una squadra anche capace di cambiare in corsa, una squadra anche che sa attaccare, sa far male, gli do 6, a Italiano gli do, gli do 6 anche a lui, perché la vittoria mi è piaciuta, però la gestione dei cambi no, dico l'onesta verità, e mi aspettavo, con tutto rispetto, per carità, vittoria è importante, stiamo andando bene, fiducia, però abbiamo un po' rischiato, mi aspettavo una Fiorentina un po' più, un po' più capace di dominare, tra virgolette la partita, comunque 6, ditemi cosa ne pensate voi, un caro saluto.